La presentosa si fa dominare dalla maestosità di questa abbazia del XII secolo. Abbiamo accolto con grande soddisfazione questa idea, che è frutto di una fantasia, insomma, di chi vuole abbinare l'arte e la cultura all'artigianato. E come dire, anche il testo del manifesto che è da Guardia Grela alla costa dei Trabocchi, dalla Maiella alla costa dei Trabocchi, quindi significa creare meglio le condizioni perché il turismo e la cultura siano fondamentali nel costruire quell'economia importante per la nostra regione. E di questo sono grato. Insomma, oggi abbinare Guardia Grela a Fossacesia per me è una grande soddisfazione, come sindaco, ma anche come cittadino di questa località della costa dei Trabocchi. Innanzitutto ringrazio Enrico Di Giuseppe Antonio, ringrazio la città di Fossacesia per aver accolto con entusiasmo questa nostra idea. Abbiamo voluto portare la presentosa dalla Maiella alla costa dei Trabocchi. Voglio insistere su un concetto per me molto importante. Il nostro territorio, l'Abruzzo, è un territorio ricco di tante bellezze, è ricco di artigianato, è ricco di storia, di cultura, di monumenti come l'abbazia che qui abbiamo alle nostre spalle, è ricco di siti archeologici, è ricco della costa dei Trabocchi, che è sicuramente un posto incantevole dove tutti i turisti, non solo abruzzesi, devono arrivare e devono immergersi in tutte le belle realtà abruzzesi. Non a caso siamo partiti dal Geoparco della Maiella e siamo arrivati qui oggi per dare visibilità all'artigianato abruzzese, dare visibilità al maestro Carullo che ha realizzato sapientemente quest'opera, l'ha realizzata con le nuove tecniche digitali e quindi questo deve essere anche uno stimolo per le nuove generazioni per andare a fare questi lavori, questi mestieri che con il passare del tempo purtroppo rischiano di scomparire. Allora la mission dell'ente è quella di tutelare, salvaguardare le opere artigianali abruzzesi e al tempo stesso generare anche interesse nelle nuove generazioni per avere la continuità di questi mestieri artigianali.